benvenuti a mista murata 2022 selezione veneta per del look of the here italy presenta eleonora assolato buonasera e benvenuti a miss pianiga 2022 e l'applauso è tutto per le nostre bellissime miss 29 questa sera che si contenderanno il titolo di miss pianiga 2022 appunto io saluto e ringrazio le nostre miss che vanno a cambiarsi quindi grazie ragazze prima di cominciare con la nostra serata un doveroso ringraziamento va al comune di pianiga quindi facciamo un grande applauso al comune di pianiga che questa sera ci ospita miss città murata si differenzia rispetto agli altri concorsi perché mira a far conoscere le città storiche e a valorizzare il territorio e le bellezze del veneto noi tra l'altro alla finale avremo anche il patrocinio della regione veneto proprio per questo perché appunto puntiamo alla storia la nostra tradizione e a valorizzare il nostro territorio questa sera abbiamo fatto tappa a pianiga nello splendido parco di villa querini calzavara pinton che è un edificio storico del 1700 che ho visto che diventerà a breve la sede del comune e chiamo appunto il sindaco di pianiga accogliamolo con un grande applauso federico calzavara per un saluto buonasera sindaco buonasera grazie eleonora buonasera a tutti e benvenuti a pianiga è un ritorno a pianiga perché qualche anno fa avevamo già fatto una selezione di città murata nel 2019 esatto sono passati tre anni abbiamo passato la pandemia che ci ha bloccato però adesso che stiamo ripartendo siamo contenti e orgogliosi di avervi di nuovo qui con noi avere città murata grazie io voglio ringraziare innanzitutto anche il mio assessore alla cultura chiara cazzagon che ha coordinato e gestito e organizzato questa serata quindi chiedo anche un bel applauso per chiara e tutte le attività commerciali imprenditoriali soprattutto visto che siamo pianiga io faccio un ringraziamento a quelle del mio territorio però ringrazio anche tutte le attività che comunque hanno sostengono e hanno sostenuto questa questa iniziativa però veramente voglio ringraziare anche le attività di pianiga che hanno creduto in questo progetto e hanno investito per fare la bellissima serata che sicuramente potremo godere ho già visto tantissime ragazze sarà impegnativo fare il lavoro di giurato però prometto che mi impegnerò e farò il mio dovere in maniera seria e responsabile e ovviamente vinca la più bella grazie a tutti e buona serata grazie mille sindaco grazie mille poi lo aspettiamo per la premiazione naturalmente della prima classificata e ora presentiamo queste belle ragazze che sono qua ragazze avvicinatevi e allora vado prima da kivia perché kivia è la vincitrice con lei che un anno fa ha vinto appunto il titolo di miss città murata kivia auto presentati buonasera a tutti mamma mia che bel pubblico tanta gente anche se non si vede ci sono persone sono kivia ho vent'anni 21 il prossimo mese e sono di treviso e originaria del brasiliano e non so mai come presentarmi qual è il tuo sogno nel cassetto kivia allora l'altra volta l'ultima volta ho detto viaggiare per il mondo e quello rimane sempre finché non faccio rimane quello adesso se ne aggiungo anche un altro che è fare la stilista adesso sto iniziando a disegnare qualche vestitino e a provare a realizzarlo è complicato però è divertente ma kivia hai già fatto qualche lavoro grazie a miss città murata ne ho fatti abbastanza con l'agenzia bizzetta e sono andata anche in radio e ho fatto un servizio fotografico con il fotografo eduardo esatto il mio book fotografico e spero di fare altri lavori eh sì e quindi diciamo che hai iniziato la tua carriera come modella e te l'aspettavi di vincere a Padova l'anno scorso alla finale? no non me l'aspettavo per niente ero proprio andata lì molto rilassata proprio giusto per partecipare l'ultimo anno ho detto proviamo è andata bene anche perché dovete sapere che la nostra kivia ha partecipato mi sembra nel 2018 e non hai al tuo primo concorso non hai vinto niente poi ci hai ripartecipato nel 2019 e hai vinto una delle dieci fasce alla finale 2020 è saltato 2021 ha vinto chi la dura l'ha vinto? cioè è vero quindi facciamolo un applauso per la nostra kivia mai mollare e la nostra Alessia è la fasciata Miss Elmo della finale dell'anno scorso autopresentati Alessia buonasera a tutti sono Alessia ho 23 anni e vengo da Venezia qual è il tuo sogno nel cassetto e cosa fai di bello nella vita? allora il mio sogno nel cassetto come quello di kivia è viaggiare per il mondo però mi piacerebbe anche aprire un mio negozio di riapigliamento e nella vita sono un'hostess ecco e allora quindi hanno le idee chiare le nostre ragazze che sono state appunto pettinate dal salone profili di Ponte San Nicolò di cui vi parlerò più tardi salone che ha pettinato anche la sottoscritta allora facciamolo un applauso a queste bellissime ragazze che adesso andranno a cambiarsi e le vedremo durante la sfilata io vi saluto ragazze perché adesso è giunto il momento di iniziare col concorso e allora se le nostre miss sono pronte io direi che appunto vi vado a presentare le miss che indosseranno appunto l'abito da sera con l'abito da sera indosseranno anche i bellissimi bijoux di FDream Italia FDream è il brand di bijoux scelto da tantissimi influencer e donne dello spettacolo come Cecilia Rodriguez e Carina Cascella per brillare in ogni momento della giornata gioielli personalizzati dalle linee preziose sempre alla moda per esaltare tutta la nostra femminilità seguite lì sui social FDream Miss Italia per essere sempre aggiornati con le ultime tendenze www.fdreamitalia.com è il loro sito dove potete fare anche acquisti online e allora se il DJ ha un po' di musica iniziamo con la concorrente numero uno io ve la vado a presentare lei si chiama Beatrice ha 22 anni e arriva da Santa Maria di Sala a presto numero due Alessandra lei ha tappi amica già fin in casa e ha 15 anni numero due Alessandra numero tre Giorgia abita a Ballò di Mirano e ha 21 anni numero due Alessandra numero due Alessandra lei è Aurora arriva da Villa del Ponte e ha 15 anni numero due Alessandra numero due Alessandra a Margarita e ha 19 anni a Margarita e ha 19 anni 11 anni numero due Alessandra Cerea in provincia di Verona, 21 anni e si chiama Noemi. Numero 9, prossima concorrente in gara a 21 anni, si chiama Laura e abita a San Giorgio delle Persiche. Cerea in provincia di Verona, 21 anni e si chiama Laura e abita a San Giorgio delle Persiche. Numero 10, abita a Vescovana, si chiama Giulia, ha 18 anni, eccola in passerella. Cittadella. A 16 anni la nostra Elisabetta, concorrente numero 11. Numero 12, ha 20 anni e abita a San Giorgio delle Persiche. Un amore di Vescovana. Un amore di Vescovana, si chiama Maggiù delle Persiche. Un amore di Vescovana, in passerella. Un amore di Vescovana, in passerella, si chiama Giorgio delle Persiche. E' un'epoca di turmici, abitata dalla diciannove anni, ecco a voi, Serena! Erima da Treviso e pensate a con più negati proprio ieri, nei 2017, ecco la nostra rebetta, numero 15! No. 16, Anna Sofia. Lei ha 19 anni e abita a Campo Santero. No. 17, arriva da Padova, 17 anni, Angela Stefania. No. 18, arriva da Valdagno, 21 anni e è la nostra Valeria. No. 19, Anastasia, arriva da Polverara e ha 18 anni. No. 19, Anastasia, arriva da Padova, 18 anni e arriva da San Fior. No. 19, Anastasia, arriva da Padova, 18 anni e si chiama Martina e indossa il numero 21. E numero 22, Sofia Aurora. Lei ha 14 anni ma a breve 15 e abita a Jesolo. No. 19, Anastasia, arriva da Padova, 21 anni e arriva da Padova. Anastasia, arriva da Padova, 21 anni e arriva da Padova, 21 anni e indossa la Padova. Numero 25, abita a Romcaglia, 19 anni, Selma in passerella. Abita a Santa Maria di Sala, la nostra Jessica è a 16 anni, numero 26. Numero 27, continuiamo con Giulia, che lei abita a Pianiga e ha 16 anni. Numero 28, Vanessa, arriva da Rovigo e ha 18 anni. E finiamo con la numero 29, Rossella arriva da Jesolo e ha 16 anni. Numero 26, Rossella arriva da Rovigo e ha 18 anni. 29 Miss che si contenderanno il titolo di Miss Pianiga, ne fasceremo in totale 11. 1, 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 1. 1, 1, 2, 3. Grazie a tutti. 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 Valeria, Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Miss Miss, e a tutti. Continuiamo con la fascia. e a tutti. Prossima fascia. Miss opposite. visita a tutti. numero 9. Laura. Miss Miss, e a tutti. profili. e a tutti. Miss Miss, Miss Miss, Miss Miss, Miss, Miss Miss Italia. La concorrente numero 29, Rossella! La concorrente numero 19, Anastasia! Buon anno immobili, vediamo se è pronta Kiwia con tutti i premi! La concorrente numero Miss Buon anno immobili è Selma numero 25! Siamo pronti per conoscere la prima classificata, sindaco direi che è giusto che premi lei! Se vuole venire anche la nostra assessora alla cultura! E allora, è giunto appunto il momento di decretare la prima classificata della serata! Che vince un voucher di 500 euro per un trattamento estetico sempre con Clinica ALC! Il premio FDreams farà da madrina la prossima selezione l'8 luglio a Castelfranco Veneto! e accede di diritto alla finale nazionale di The Look of the Year! Signore e signori, Miss Pianiga! 3.022.24! 3.022.24! Ciao! 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 E naturalmente ringrazio tutti voi del pubblico che avete assistito a questa serata Da Eleonora Sorato è tutto, grazie e buona continuazione in serata, buonanotte, grazie Grazie a tutti Grazie a tutti